Riapre a Cortina d'Ampezzo dopo un'ampia ristrutturazione il Grand Hotel Savoia, di recente entrato a far parte del gruppo Radisson. Il Grand Hotel Savoia riapre la stagione invernale grazie al campionato mondiale di sci, dopo un'intera e intensa ristrutturazione che vede il complesso insieme al Savoia Palace, rinascere sotto il cappello internazionale del brand Radisson, Radisson Collection, per il Grand Hotel Savoia e Radisson per il Savoia Palace. Un nuovo resort con più di 400 posti letto ed una spa totalmente rinnovata che ci auguriamo di poter aprire presto al pubblico. La cosa importante è che abbiamo riaperto grazie anche al brand Radisson con un protocollo molto rigido per il Covid e grazie appunto alla collaborazione sia con il brand che anche i nostri standard aziendali. Linee essenziali contraddistinguono il design del nuovo gruppo, colori caldi e luci brillanti ne conferiscono ariosità. Il nuovo Grand Hotel Savoia del gruppo Radisson è già riferimento dell'eleganza italiana e lusso contemporaneo a livello internazionale per ospiti esigenti che non sanno rinunciare ai più svariati comfort. Per Cortina un nuovo gioiello del settore alberghiero di cui andare fieri.